Il restyling della Villa Comunale di Sernia può dirsi concluso e ora il Parco Verde è a disposizione di bimbi e famiglie con un volto nuovo. Sono state sistemate infatti anche le due macro aree rimaste fuori dal primo lotto dei lavori e per chiudere il cerchio manca solo lo strato di bitume colorato per ripavimentare tutto il parco, come ha spiegato l'assessore Domenico Chiacchiari. Sì, abbiamo finalmente quasi concluso i lavori, il primo lotto ha riguardato la sistemazione del laghetto, l'allargamento dei giochi e adesso abbiamo finito con l'inermamento dei due lati della Villa Comunale. Rimangono solo da sistemare i viali ma che stiamo pensando di fare al più presto. Per quanto riguarda la città abbiamo sistemato varie zone della città di cui le piazze soprattutto e finiremo domani con la messa di mola di fiori sulle rotonde e sulle fioriere di Corso Garibaldi. Ora lo sguardo viene volto al decoro urbano delle contrade con particolare attenzione a Castelromano, una delle borgate più popolose di Isernia. L'obiettivo è quello di arrivare alla fine dell'estate con tutti i lavori già espletati. Sì, per le borgate al primo luglio partirà la pulizia delle strade che facciamo ogni anno e sul borgata Castelromano l'idea è quella di realizzare un piccolo parco giochi. Un altro intervento lo faremo alle piane per quanto riguarda sempre i parchi, l'idea è quella di realizzare un parco fitness, se riusciamo a farlo entro l'estate.